Questo è un treno che sta passando alle 8.33, speriamo che apra il passaggio. Ne arriva un altro treno che però si è fermato mentre si attende, non si capisce cosa si è aspettando per metter il semaforo, ma nel frattempo le barri sono ancora use e le macchine aumentano. Eccolo che riparte, sta ripartendo. Vediamo se le barre aprono. 8.33, sono passati due treni, 8.36, mi dice, è ancora use. Sono passati due treni, 8.36, mi dice, è ancora use. Sono tre minuti senza un treno ed è ancora use. 8.38, il passaggio è ancora use, nonostante sono cinque minuti che non passano i treni. ecco il terzo treno in arrivo. 8.44, il terzo trenista è solo la mia area. È uguale. Sono una da Tetretsanone. 8.40 ecco si sono aperte il bar dopo due minuti senza che sia passato sono le 8 e 41 i binari sono appena aperti il passaggio a livello si è appena aperto i binari si sono liberati le macchine stanno transitando vediamo fra quanto tempo si richiuderanno sono passate una decina di macchine fino ad ora attendiamo probabilmente si richiuderanno a breve sono passati pochissimi secondi macchine in tilt perché rischiano di restare bloccate il semaforo è di nuovo rosso sentite le macchine entri i binari si abbassano ecco non si abbassano i binari di nuovo sbarre chiuso